Se nello scorso video ho deciso di scavare dritto per un'ora, oggi proveremo l'impossibile scavando dritto per 5 ore. Vi starete chiedendo se ce la faremo? No, 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 non ce la faremo, no, lasciate mi piace sulla fiducia, già. Amici, come starete vedendo dall'inventare più ciccione della storia, sostanzialmente, guardate quante robe mi sono preso, ovviamente le ho farmate tutte, Ok, l'ho preso in creativa, scaviamo dritti per una cosa come 5 ore, finché per l'appunto non riuscirò a trovare diamanti o robe varie. Oddio, l'altra volta però i diamanti li abbiamo trovati, potrei fare... che non mi sono preso le palle, ah sì invece, che carino. Dicevo, potremmo scavare finché non troviamo gli smeraldi, zitti zitti, no, facciamo i diamanti, dai che l'altra volta in realtà abbiamo trovato un botto di smeraldi, Perciò, armiamoci di pazienza, un botto di picconi, una spada e ti prego non cadere nella lava, ovviamente, ovviamente vi ricordo, posso scavare solo dritto, Quindi se per sbaglio avessi trovato i diamanti qui, non li avrei potuto prendere, ovviamente avrei pianto chiaramente lacrime a mare, ma li avrei dovuti lasciarli. Perciò, cronometro alla mano, è partito, spero di non rimanere qui 5 ore, altrimenti proprio sarebbe una vita sprecata, letteralmente, e si scava, si scava, ovviamente vi farò dei tagli, Ovviamente vi farò accelerazioni con dei bei rumorini, quelli belli carini carini, e ci vediamo appena trovo qualcosa, credo. Avrei potuto incantare i picconi, vabbè. Uh, caverni! La mia vita fa schifo! Dai, ma cosa sto... Signori di YouTube, cosa... Dai, ma stiamo scherziamo! Ma stiamo scherz... Qui sono, avete presente quando prima vi ho detto, ma il carico non li posso prendere? Con questa voce ve l'avevo detto. Li ho trovati in parte, e non li posso prendere. Ma dai! Mamma, se stasera non vengo a cena, è perché mi sono suicidato. Andiamo avanti. Vabbè, quindi la prima scammata, dopo quanto? 30 secondi di video? 40 secondi forse? È avvenuta. Bene? No, bene? Bene! Non sto piangendo! Non sto piangendo! Vabbè, andiamo avanti. Prossimo... Uh! Uh! Aspetta, aspetta che non c'è neanche bisogno del taglio. Quindi andiamo avanti. No, è questa fila. Siamo in questa fila. Cos'è che mi ha colpito? Il ferro. No, non era il ferro! Mayday, mayday! Non era il ferro! Soldata abbattuta! Soldata abbattuta! Muori, sky... Dannato ferro che mi colpisce. Va bene? Cioè, va bene. Non sta andando per niente bene. Dato che è pieno di mob, raga! Andiamo avanti, va, zitti zitti. Non curiamoci del pericolo. E si va avanti. Quindi, ora sì, che si fa il tagliettino. Ci vediamo dopo. Cioè, che poi io perché faccio queste challenge? Non posso fare tipo un episodio vanilla tranquillo, che piaccia a tutti. No, devo fare scavo cinque ore e mi voglio suicidare. Cioè, nel senso, dannazione, devo rivedere le mie scelte di vita. Sì, sì, decisamente. Comunque, sento un botto di acqua, lava, esplosioni alla mia sinistra, però dritto non c'è niente. Ho scelto la strada sbaglia. Cioè, a parte che se avessi scelto questa strada avremmo già finito il video, tutti a casa e ci vediamo al barettino. No, no, invece no, perdiamo tempo qui. Allora, per me è passato un'accelerazione sostanzialmente. Per me è passato un po' di tempo, in realtà circa un quarto d'ora. Vi avranno fatto i giusti tagli. Il master dell'editing avrà fatto un buon lavoro. Si spera. In ogni caso, oltre a non trovare mezzo diamante, dici, vabbè, non trovo i diamanti, ci sta. Cioè, proprio non trovo nient'altro. Ho anche finito le torce, ma do. Cioè, è finito il primo stack di torce. Tranquilli, non finiranno mai. Cioè, proprio io non sto uscendo da questo buco da una vita. Cioè, la claustro... Si inizia a far sentire la claustrofobia, amici, non si respira. Che sia il momento di un'altra accelerazione con una musichina bella che è ci... Dai, quanto sono belle le musichine nell'accelerazione. Eh? Eh? Oro. Ok. 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 Allora, voi non li sentite, ma sto sentendo dei rumori. Tipo... Proverò a riprodurli. Tipo... Che roba è? Facciamo che dietro mi do un'occhiata ogni tanto, perché è bello lungo e tempestoso, diciamo, questo cunicolo, perciò potrebbero sbucarmi tranquillamente da dietro, vi starete chiedendo chi e io vi rispondo... Non lo so. Purtroppo. Attenzione. Attenzione, vedo... No, no, mi sembrava una caverna. Ma adesso sto iniziando ad avere le allucinazioni. È finita. Basta. È andata? È la fine? È andata? Residente? Siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratelli, mai nessun ci dividerà, tra l'allero la... Sto impazzendo. And his name is John Cena. Attenzione, la civiltà... Cioè, oddio, civiltà con della lava, anche no. Però, la civiltà, sì, oro. Sium, sium. Sium, sium. Sì, allora, questo lo devo distruggere. Dai, dammi gli sti diamanti. Dai, che c'ho una famiglia da mantenere, vi prego. Dai, non voglio stare cinque ore su Minecraft, amici, perché mondo crudele si ritorna nella grotta e si ritorna che è stoccata. Ho sentito un tizio parlare. Cosa? Senti! No, non so se voi sentite. È un tizio che ride. No, non ha senso. No, fermi. Allora, c'è lo zombie e poi c'è uno che fa... No, raga, fermi. No, non ha senso sta cosa. Fatemi sapere nei commenti che mob potrebbe essere. Magari un villager di quelli che si sono trasformati, come si chiamano quelli zombie villager. Boh! Ecco, ecco, ecco. Madonna, non si vede una minchiazza. Zero proprio, senza le torce. Cieco. Slovacco. Disiscrivetevi. No, vabbè. E allora gioco dillo. Tu me lo dici che mi stai prendendo per il chiulo e allora uno si mette d'accordo. Ma davvero non ci... Certo, non è che dici, vabbè, in parte... Sotto! Voglio terminare sia l'episodio che la mia vita. Uh, 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 ok? Dai, ti prego. C'è della lava? Dai, intrigante questa lavettina, per forza. È arrivato il momento dei diamanti. Three hours later. Mamma? Sì, torno a casa per cena. Sium! L'urlo del Sium. Dai, tutte torce. Zampilla tutto di torce. Vediamo quanti ce ne sono. Due. A caso, così? Yes. Yes. Guardali qui. Sono proprio loro. Sono i diamantozzi matti. Ci metto tutte le torce sopra, sotto, destra, sinistra. Final... Ma no, non sto piangendo. Non sto piangendo, amici. Yes. Yes. Quindi, abbiamo trovato i diamanti. Sì, per voi il video sarà durato tipo 6-7 minuti. Per me, molto di più. Fidatevi. Li prendo, ovviamente. Li prendiamo, raga. Cosa stavo facendo? C'è il senso. Yes, achieved. Yes. Guardali lì. Belli scintillanti. Quindi, amici. Spero che questo video vi sia piaciuto. È durato il giusto. Vi ringrazio, ovviamente, per la visione. Vi do appuntamento domani, alla solita ora, ovvero 6 e mezza. Abbiamo un attimino accorciato quei tempi. In caso, live su Twitch alle 15. Con un nuovo video. Ciao.